Il Teatro dell'Aquila di Fermo è stato la location dove si è celebrato il premio Pagella d'Oro, giunto quest'anno la sua 52esima edizione. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e la Cari Fermo S.p.A. Il Presidente della Fondazione, Alberto Palma, ha salutato così l'evento. Da 52 anni, era il 1962, quando i nostri predecessori ebbero questa felice intuizione di dar vita a questo premio Pagella d'Oro, che originariamente circoscritto al solo Fermano, si è poi, man mano che l'attività della banca si è allargata ad altri territori, oggi ricopre l'intera provincia di Macerata, quella di Ascoli Piceno, parte della provincia di Teramo e parte di quella di Ancona. Sono località in cui oggi ci troviamo ad operare e alle quali abbiamo esteso questa iniziativa. Si tratta di riconoscere il merito dei migliori allievi dei singoli istituti scolastici e noi con piacere abbiamo notato l'apprezzamento di questa iniziativa. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci mette a disposizione questo splendido teatro e ci auguriamo che questa iniziativa possa ancora proseguire in futuro, anche dopo di noi. Non sono inoltre mancate considerazioni sulla legge di stabilità e sul difficile momento di congiuntura economica. C'è una penalizzazione fiscale molto pesante che inevitabilmente si tradurrà in una contrazione delle somme disponibili per gli interventi in campo culturale, sanitario e sociale. Purtroppo io non credo che ci sarà modo di venire fuori da questa ipotesi. Mi auguro che si tratti di una cosa temporanea perché gli effetti di una misura del genere poi li pagheranno i beneficiari che sono il volontariato, le associazioni culturali, gli ospedali e tutti i beneficiari degli interventi della nostra fondazione. Certamente non intaccheremo la pacella d'oro perché è un po' un nostro distintivo. Ospite di questa speciale edizione è stato Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, che ha recentemente iscritto un saggio. Napoletano ha proposto alla platea una lezione magistrale su viaggi in Italia, inventiamoci un futuro. Interessanti sono state le domande fatte dagli studenti alle quali il giornalista ha risposto felicemente, dando infine preziosi consigli ai giovani. Ai giovani si devono chiedere mille volte che cosa voglio fare io nella mia vita, dove sono i miei talenti e dove voglio investire questi talenti. Se un giovane riesce a farsi questa domanda e soprattutto a rispondere a questa domanda, ha guadagnato molto, molto, molto nella realizzazione del suo progetto di vita. Noi questi giovani non li stiamo aiutando perché non abbiamo creato le condizioni per investire fino in fondo sul loro talento. E io mi arrabbio molto quando si parla di fuga dei cervelli. Non esiste una fuga dei cervelli, esistono dei giovani di talento che scelgono di andare a vivere e a lavorare dove ritengono di vivere e lavorare con maggiore soddisfazione. La sfida di questo paese è fare in modo che l'Italia torni ad essere come è stato nel primo dopoguerra, quando abbiamo trasformato un paese agricolo di secondo livello, prima in un'economia industrializzata e poi in una potenza economica mondiale, è bene che l'Italia torni ad essere il luogo dove si vive e si lavora con il massimo di soddisfazione. Il riconoscimento è riservato agli studenti segnalati come migliori da tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado delle località dove la Carifermo S.P.E. è presente con le sue filiali. 120 ragazzi premiati per le loro capacità che hanno ricevuto una somma in denaro messa a disposizione dalla Fondazione Casa di Risparmio di Fermo. Siamo con Cristal Flammini, uno dei vincitori della Pagella d'Oro. Quali sono le tue prospettive per il futuro? Penso che magari questo potrà essere solo l'inizio del mio futuro e spero che in avanti potrò fare qualcosa di importante e alle medie ho imparato ad apprezzare il cielo e magari in futuro potrò diventare un astronomo o qualcosa del genere. Devo ringraziare molto tutti quelli che mi hanno appoggiato durante questi anni. Attraverso queste manifestazioni magari vedrai anche un futuro migliore per voi giovani? Beh certo, magari attraverso tutto questo il nostro futuro potrà essere migliore, potremmo essere appoggiati e quindi spero che qualcosa farò da grande.